Tutto cominciò nella stagione 2012-2013 quando, a Uomini e Donne, il tronista Eugenio Colombo è della fortuna di conoscere Francesca del Taglia. Da lì nacque la loro storia d'amore, proseguita anche dopo, quando le telecamere di Canale 5 si sono spente. Ebbene sì, i due aspettano un figlio, che si chiamerà Brando Colombo. Qualche giorno fa, come vi abbiamo documentato, Eugenio e Francesca hanno scartato i tanti doni offerti dai loro fan, adesso invece stanno riflettendo sul loro futuro, soprattutto sulle prossime settimane visto che è imminente la nascita del piccolo. Volevo farvi gli auguri di una serena Pasqua a tutti, ha scritto Eugenio Colombo su Facebook nella sua pagina frequentata da 140.000 persone. E subito dopo ha aggiunto un particolare piuttosto interessante. Finché non nasce Brando non mi muovo più, per serate. Si riprende tutto dopo. Chi se ne frega.